Si svolgeranno domani presso la sede di Via Milli a Teramo le elezioni del nuovo presidente della provincia che prenderà il posto dell'uscente Diego di Bonaventura. Essendo di secondo livello saranno chiamati alle urne solo i sindaci e i consiglieri comunali dei 47 comuni della provincia. Quindi un passaggio cruciale per gli equilibri politici locali. Tre, i candidati Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana. Ho ascoltato le stanze e le richieste degli amministratori dei territori, ho ascoltato anche i cittadini perché la candidatura è soprattutto per i cittadini e per le realtà che sono purtroppo da tempo abbandonate dalla politica. Domenico Piccioni, sindaco di Tortoreto. La nostra provincia debba essere una provincia unica nel senso tra mare, colline e montagne. Dobbiamo puntare tutto sul turismo. E Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro. E' proprio nel senso dell'unione dei territori, dalla montagna al mare, quindi cercare veramente una congiunzione di tutte quelle che sono le peculiarità della provincia di Terum. Tutte e tre le candidature possono contare sul sostegno di diverse liste civiche e si dichiarano espressioni del territorio. Tuttavia sono sostenute dai partiti di diversa estrazione. Se la Lega e Forza Italia hanno infatti espresso soddisfazione per la candidatura di Vagnoni, Fratelli d'Italia appoggerà Piccioni. Candidatura civica per D'Angelo è sostenuta da una parte del centrosinistra. Ad esprimersi nel seggio, che sarà aperto dalle 8 alle 20 di domani, saranno 613 amministratori eletti nei comuni della provincia di Teramo. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, ma il voto sarà ponderato. A seconda della grandezza del comune di appartenenza, infatti il singolo consenso espresso a favore di uno dei tre aspiranti alla presidenza avrà un peso maggiore. Di conseguenza i voti espressi da sindaco e consiglieri di Teramo saranno quelli più pesanti, mentre le preferenze espresse da amministratori di centri più piccoli avranno un'incidenza minore nel calcolo del risultato finale. Lo spoglio è previsto subito dopo la chiusura del seggio elettorale, ma come di consueto le ultime ore che separano al voto saranno quelle cruciali per definire i pesi della bilancia politica, senza dimenticare il pericolo del fuoco incrociato dei franchi tiratori alle urne, che potrebbe riservare delle sorprese.